La mia passione per il basket è nata quando avevo più o meno l'età di 10-11 anni, anche abbastanza tardi magari rispetto ai miei coetani. Come tutti ero un appassionato di calcio, da piccolino, come tutti, soprattutto i ragazzini napoletani. Però poi tramite gli amici e tramite mia mamma, che mi vedeva crescere sempre di più, ha detto dai perché non proviamo il basket. Poi piano piano, grazie anche all'aiuto del mio allenatore Virgilio, ho preso questa passione che piano piano ho capito che potevo farne un lavoro e da lì è partita il mio amore incondizionato verso la palacanestro. Mi hanno seguito i vari tornei con la selezione regionale, al trofeo delle regioni in particolare, e poi ho avuto la fortuna di ricevere questa chiamata da parte di Andrea Bausano e Vincenzo Di Meglio, che hanno creduto in me quando avevo l'età di 13 anni, praticamente 14 anni, e supportato dalla famiglia poi ho deciso di intraprendere questa avventura all'APMS Torino e poi da lì è partito tutto un percorso che mi ha portato ad avere le prime soddisfazioni nazionali. È stato molto difficile, soprattutto perché sei un ragazzino, comunque ha 13 anni, molte cose ancora non le capisci e sei molto immaturo. Poi diciamo che passare da Napoli a Torino è proprio una differenza incredibile, però piano piano, con l'aiuto soprattutto dei miei allenatori e dei miei compagni di foresteria, mi sono ambientato anche abbastanza velocemente e poi da lì è stato tutto in discesa. Una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera, ma in generale della mia vita, perché prima di tutto in generale quando giochi con la nazionale, comunque rappresentare il tuo paese è già il primo motivo di orgoglio. Poi arrivare da non favoriti a vincere una medaglia che comunque, nonostante il rammarico della finale, è comunque una medaglia di grande valore, sicuramente è un'esperienza che ti segna, ma non solo in sé per sé il risultato, ma in generale quello che avevamo costruito come gruppo, i giorni passati insieme, i 30 giorni pre mondiale, poi quello era comunque un gruppo che veniva dalla vittoria del bronzo all'europeo di pochi mesi prima in Turchia, quindi è stato proprio un periodo di un anno proprio pieno di soddisfazioni. Santa Clara, proprio forse al mondiale o comunque sai a qualche altro torneo, allora piano piano ho iniziato a contattare i miei genitori, perché forse addirittura i primi contatti c'erano stati quando ero minorenne, quindi non potevano parlare con me, ma parlavano tramite i miei genitori, poi ci hanno ospitato lì un paio di giorni, qualche giorno a vedere il campus, capire un po' come funzionava, comunque anche per i miei genitori quello è stato ancora un altro sacrificio, perché una cosa è avere il proprio figlio a un'ora e un quarto di aereo a Torino, è una cosa ed essere dall'altro lato del mondo, quindi sicuramente anche senza di loro non è un'esperienza che non avrei fatto, però Santa Clara mi ha segnato in positivo e quindi sono sempre grato a loro per quell'occasione. È stato molto molto bello, quasi da film, perché la California comunque è forse uno degli stati più belli in America, poi dove ero io nella Silicon Valley, vicino a San Francisco, un clima incredibile, non pioveva mai, sempre soleggiato, io sono uno che ovviamente da buon napoletano dipende molto dal meteo, quindi sicuramente questa è stata una cosa che mi ha aiutato a vivere il giorno per giorno in un modo diverso, e poi in generale le persone lì sono incredibili, quindi è stata un'esperienza che porterò per sempre con me e consiglio a chiunque. Jalen, se non mi sbaglio, è arrivato l'anno dopo rispetto al mio, perché era un po' più piccolino, ma si vedeva che aveva la struttura, aveva la mano, aveva la tecnica per giocare ad alto livello, è uno che è sempre stato focalizzato sull'obiettivo di arrivare in NBA, è appassionato 24 ore su 24 dello sport, sempre in palestra, quindi sicuramente questi sono sacrifici che poi hanno ripagato per lui, aveva tutte le doti per arrivare, e anche contro molte critiche, aspettative, lui poi alla fine è salito molto nel draft, è stato draftato e ha dimostrato di poter giocare al più alto livello possibile. Quando ritorni poi dal college magari l'unico problema è che appunto riparti come se non fossi nessuno, devi ricostruirti tutto, un nome, devi anche adattarti al basket europeo che è comunque diverso da quello americano. Sicuramente il mio primo anno si è visto perché c'è stato un periodo di adattamento, poi sono stato molto sfortunato con degli infortuni, però alla fine l'importante è rimanere lì con la testa, rimanere concentrato, io con l'aiuto poi soprattutto di Luis e la nuova direzione che era dietro le quinte appunto della pala Canistro Varese, ho avuto quella iniezione di fiducia in più e quella possibilità di dimostrare che stavo lavorando duramente, e poi piano piano i risultati sono arrivati in campo, piano piano con la salvezza e con altre soddisfazioni che ci siamo tolti quest'anno. Una delle prestazioni che più mi rendono fiero di me stesso perché, come ho ripetuto prima, quando giochi con la nazionale è come se significasse qualcosa in più, quindi sicuramente sono contento, era una cosa che non mi aspettavo ovviamente perché io vivo, l'ho detto, giorno per giorno, ero già felice solo di far parte di quel gruppo e si è presentata l'occasione per vari motivi o comunque per la fiducia del coach di giocare magari un po' di più ed è andata bene, non solo personalmente perché poi alla fine abbiamo anche vinto quindi valeva ancora di più quella prestazione. Diciamo che sicuramente sono migliorato su molti aspetti ma ci sono ancora molte cose su cui devo lavorare però magari quello che adesso riesco a fare un po' meglio rispetto ai primi mesi in Serie A o comunque alla mia carriera pre-Europa è quella capacità magari di giocare con un livello fisico maggiore che è una cosa che però devo migliorare ancora perché comunque più alzi il livello più la fisicità aumenta quindi sicuramente quello è un aspetto su cui sono migliorato ma su cui devo comunque lavorare molto e poi in generale magari cerco di utilizzare quello che sono i miei punti di forza che magari possono essere un po' più caratteristiche tecniche, magari un po' più di agilità nel finire vicino al canestro però devo lavorare ancora tanto ed è per quello che sono qui ho scelto di venire qui all'Olimpia perché qui posso magari fare quel salto in più di qualità e a livello di miglioramenti. Sicuramente sono molto molto eccitato, molto contento perché comunque Milano non è come le altre squadre sono poche quelle che vantano una storia come quella dell'Olimpia che sono coperte a 365 gradi su ogni aspetto quindi sicuramente è una possibilità di cui sono molto molto grato e semplicemente non vedo l'ora di iniziare perché sarà una bella sfida per me e avrò tanto da imparare. Grazie a tutti